Il comune di Bitonto scende in campo accanto ai residenti contro i rumori che provengono dal cantiere per i lavori di adeguamento alla stazione centrale. L'amministrazione ha fatto partire una nota all'indirizzo delle ferrovie nordbarese per chiedere che venga arrecato il minor disturbo possibile ai cittadini. I problemi sono nati da qualche settimana a causa degli interventi per l'amodernamento della stazione ferroviaria che vengono svolti prevalentemente nelle ore serali e notturne per non interferire con il normale traffico ferroviario. I rumori però nonostante le prescrizioni imposte dal comune avrebbero esasperato i cittadini che si sono rivolti agli amministratori locali chiedendo di intervenire a loro tutela. Gli abitanti nelle vicinanze della stazione hanno evidenziato di aver chiesto più volte senza esito direttamente alle mestranze impegnate nei lavori il rispetto delle prescrizioni dell'ordinanza comunale sui rumori nelle ore serali e notturne interessando anche le forze dell'ordine e l'ARPA per la misurazione delle emissioni rumorose. Rumori di ruspe, di flessibili e di avvitatori, forti rumori che sicuramente erano superiori alla norma, non erano entro i limiti consentiti. Anche se loro avevano un'aderoga ai decibel sicuramente li superavano abbondantemente senza usare delle precauzioni secondo me. Dopo un incontro il vice sindaco Rosa Calò ha inviato una nota al direttore d'esercizio delle ferrovie nordbarese invitandolo a controllare che l'operato dell'impresa esecutrice dei lavori si alinea a quanto prescritto dall'ordinanza comunale. Quelli nei pressi della stazione non sono però gli unici rumori molesti lamentati dai cittadini durante le ore notturne a Bitonto. Oltre che per la Musi e gli schiamazzi nei pressi dei locali, soprattutto del centro storico, lamentele sono arrivate anche per gli interventi poco prima dell'alba degli operatori dell'SV durante le operazioni per lo svuotamento dei cassonetti dei rifiuti. In questi casi non risulta essere stato adottato alcun provvedimento.